Per me non è possibile immaginare dichiarazioni che non siano costruite sull'approfondimento dei dossier, siccome sono dossier molto delicati, servire serietà e verificare prima le condizioni, le situazioni e poi eventualmente scrivere nel merito delle valutazioni e quindi fare delle proposte. Quindi farete una di utilicenze sui progetti, Ministro, per valutare una modifica? La valutazione su tutto, chiaramente, questo è chiaro, ci stiamo adesso, mi sembra che ci sia stata una gestione ordinata nel rapporto col governo uscente, è un fatto molto positivo e quindi lavoreremo in prospettiva tenendo conto di questo, con le nostre valutazioni, le nostre sensibilità, però non mi sento oggi entrare nel merito di esprimere giudizi. Il primo giorno, io sono abituato a non parlare per slogan, quindi prima vediamo un po' le questioni del merito, le mie idee che le conoscete, quindi dateci il tempo qualche giorno e poi faremo le nostre valutazioni e i nostri proposti.